Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Finalmente eccomi qui a registrare questo video, che come vedete è il classico wrap-up, diciamo, ma le cose da questo video cambieranno, nel senso che ho deciso di eliminare i wrap-up. Come sapete i wrap-up sono dei video, dei format mensili in cui io vado a parlarvi di mese in mese delle letture fatte durante uno specifico mese. Questo sa significare che io devo rispettare teoricamente delle scadenze di mese in mese per portarvi questi wrap-up, questi video delle ultime letture fatte durante il mese. Come forse avete già notato anche voi negli ultimi tempi, i wrap-up uscivano con delle tempistiche abbastanza distorte, quindi il wrap-up di febbraio magari usciva ad aprile, eccetera, eccetera. Era un po' effettivamente un disastro e questa cosa mi mette e mi metteva una certa pressione addosso nel dover rispettare una determinata tempistica, cosa che ci tengo particolarmente a fare, per cui ho deciso direttamente di togliere il wrap-up. Non ci saranno più i wrap-up mensili, ma semplicemente quando avrò accumulato una certa quantità di letture registrerò un video delle ultime letture in cui ve ne parlerò. È una cosa che mi fa stare più tranquillo nel non avere appunto una deadline da rispettare e sicuramente appunto avrò meno pressione e più facilità forse anche nel mettermi a registrare questi video wrap-up che non saranno più video wrap-up. Detto questo, nel video di oggi, quello che teoricamente è un wrap-up, andremo a parlare di tutte le letture fatte durante questi primi mesi del 2022. Quindi teoricamente, anche se non è più un video wrap-up e non parleremo più in termini di mese, andremo a vedere cosa ho letto durante gennaio, febbraio e marzo. Detto questo, il preambolo è finito, direi di cominciare immediatamente. E voglio cominciare con quella che è stata la mia prima lettura del 2022. Una lettura forse inaspettata, non pensavo di iniziare il 2022 con questo libro, ma l'ho fatto. E sto parlando di Billy Summer di Stephen King. Questo è l'ultimo lavoro di Stephen King pubblicato, uscito l'anno scorso appunto anche in Italia per Sperlian Kupfer e finalmente ho avuto modo di leggerlo e ne sono rimasto particolarmente entusiasta. Nel senso che questo è un libro che si discosta molto da quello che è il classico Stephen King, quindi lo Stephen King che predilige l'horror, il soprannaturale, ma è il nuovo, tra virgolette, Stephen King in cui si approccia maggiormente a quello che è il thriller e storie di questo genere. E devo dire che Billy Summers, nonostante all'inizio fosse un libro che non mi entusiasmava particolarmente, si è rivelata essere una lettura davvero eccezionale. Ho iniziato questo 2022 con una lettura che mi ha dato effettivamente molte soddisfazioni. Ma di che cosa parla Billy Summers? Billy Summers è sì il titolo del romanzo, ma è anche il nome del nostro protagonista. Billy è un ex veterano della guerra in Iraq che dopo aver lasciato il campo ha deciso di sfruttare le sue eccellenti doti da cecchino per diventare un sicario professionista. E negli anni effettivamente Billy si è distinto per le sue capacità, diventando nell'ambito della malavita, della criminalità, uno dei migliori. Ora però Billy si trova in un momento della sua vita in cui è deciso a prendere una strada diversa, voler abbandonare la vita che ha sempre fatto e che lo sta logorando di giorno in giorno e per fare questo decide di portare a termine un ultimo incarico. Un ultimo incarico che effettivamente lo paga piuttosto bene, permettendogli quindi effettivamente di iniziare una nuova vita da zero. Così facendo Billy, fingendosi un aspirante scrittore, comincia a mettere su un piano per portare a termine questa sua missione. Il fatto è che quello che inizialmente doveva essere un obiettivo, un lavoro semplicissimo e molto veloce, si trasformerà piano piano in qualcosa di molto molto più pericoloso e soprattutto inaspettato. Questo è tutto quello che dovete sapere per cominciare a leggere Billy Summers e vi ho riassunto praticamente le prime pagine del libro, perché ben presto Billy Summers si trasforma in un romanzo che effettivamente ha tanto altro da dire, oltre che mettere in mostra le capacità di Billy come sicari e quest'ultimo lavoro che dovrà affrontare. La cosa che mi ha sorpreso di Billy Summers è che inizialmente è un libro che si prende molto il suo tempo, come è solito fare Stephen King d'altronde. Comincia a raccontarti questa storia scendendo in particolari che molto spesso potrebbero sembrare anche inutili e superflui e che invece riescono piano piano a farti immaginare uno scenario molto molto completo, dove tu hai l'opportunità di conoscere effettivamente molto bene la situazione, ma soprattutto i personaggi di cui stai leggendo. E Billy Summers, che è il nostro protagonista assoluto, è un personaggio che Stephen King comincia ad approfondire piano piano nel corso della storia e che tu, lettore, imparerai ad apprezzare e a conoscere nel corso del tempo. Billy è un personaggio estremamente enigmatico, con una moralità che effettivamente già per il lavoro che fa, per quello che è stato nel corso della sua vita, lo fa sembrare una persona pericolosa, con appunto una moralità, diciamo, sbagliata. Ma questo è solamente quello che si vede dall'esterno, perché dentro Billy c'è tanto altro. E la cosa che mi ha sorpreso è che a un certo punto il libro prende una piega inaspettata, andandoti quindi a raccontare una storia che personalmente non mi sarei mai aspettato, perché effettivamente il piano iniziale, l'ultimo lavoro di Billy, è per Stephen King una scusa semplicemente per raccontare nell'effettivo il personaggio di Billy Summers. E tra l'altro è anche una storia dentro la storia. Non voglio dirvi più del necessario, ma ci sono altre storie che vengono raccontate all'interno di questo libro. Vi lascio appunto, come vi dicevo inizialmente, Billy si finge uno scrittore, ma questa sua passione comincerà a prendere a un certo punto il sopravvento, per cui queste due storie cominceranno ad essere sempre più intrecciate tra di loro. E nel suo percorso, nel suo viaggio, Billy conoscerà nuovi personaggi, nuove persone che lo accompagneranno, ma anche sue vecchie conoscenze che in qualche modo cercheranno di aiutarlo o di ostacolarlo appunto durante tutta la storia. Ed è davvero un romanzo che arriva a un climax che io ho trovato davvero eccezionale, per arrivare a un finale che è forse uno dei migliori che io abbia mai letto di Stephen King. Solitamente King è un autore che io apprezzo di più per il viaggio che ti fa fare durante le sue storie, piuttosto che per i finali. Molto spesso li trovo, non voglio dire inconcludenti, ma non apprezzo molto il tipo di finale che Stephen King scrive in alcune sue storie. Con Billy Summers credo che invece abbia fatto completamente centro, perché il finale di Billy Summers è una pugnalata incredibile. E credo che sia perfettamente coerente con tutto quello che Stephen King ci racconta all'interno di questo libro. E soprattutto conoscendo piano piano Billy Summers, conoscendo la sua personalità, i suoi desideri, i suoi sogni, quello che è stato e quello che potrebbe essere. Ecco, hai una visuale di questo personaggio a 360 gradi. E la cosa che ho apprezzato di più è che effettivamente si ha proprio la sensazione di conoscere in prima persona Billy Summers, con tutti i suoi difetti e i suoi pregi. È un grandissimo romanzo Billy Summers, è un thriller, come vi dicevo. Quindi il classico Stephen King scompare, non si parla di soprannaturale, non si parla di horror, non è quel tipo di King, ma è un nuovo King che io ultimamente appunto sto apprezzando particolarmente. Tra l'altro ci sono anche degli speciali easter eggs con altre storie di Stephen King, come per esempio Shining, che ho apprezzato particolarmente. Per chi ha letto magari altre storie di King ritroverà all'interno di questo libro degli easter egg che sono comunque perfettamente contestualizzati, quindi li ho trovati molto belli da scovare, come spesso comunque accade nei libri di King. Quindi promosso, è stata una lettura pazzesca, mi è piaciuta da morire e lo consiglio davvero a tutti. È un romanzo che ti cattura dalla prima all'ultima pagina, davvero eccezionale. Ok, passiamo a una lettura delle letture, anzi, di cui abbiamo già parlato in un recentissimo video, quindi non mi sto a dilungare più del necessario. Finalmente, come molti di voi già sapranno, forse alcuni di voi avranno già visto il video, sono riuscito ad imbarcarmi in una nuova avventura, ovvero Malazan di Stephen Erickson, leggendo il primo libro, appunto, I giardini della luna, e il secondo libro, La dimora fantasma. Questa è una delle saghe fantasy che attendevo di più di leggere, che effettivamente mi spaventava per la sua mole, per la sua chiacchieratissima complessità che effettivamente ho riscontrato anche io leggendo questi primi due volumi. Ora, come vi dicevo, c'è un video senza spoiler che potete vedere per conoscere appieno la mia opinione su Malazan, ma per chi non avesse voglia faccio un piccolo riassunto di quello che è il mio pensiero su questi primi due libri. Malazan è una saga che, come dicevo anche nel video, io trovo molto complesso riassumere con una trama effettiva. È più che altro un contesto, un contesto in cui esiste questo impero, l'impero di Malazan, che sta piano piano conquistando tutti i territori conquistabili. A capo di questo impero c'è l'imperatrice Lassin, una donna che sta rivoluzionando completamente tutto quello che è l'impero e che sta ovviamente cercando di conquistare il più possibile. Affronteggiare ovviamente la minaccia che rappresenta l'impero Malazan, questo esercito che è vastissimo, pieno di abilissimi combattieri, di maghi, insomma è un esercito fornito di tutti gli strumenti in grado di conquistare effettivamente quanti più territori possibili. Ma ci sono delle città libere che ovviamente stanno fronteggiando quello che è l'avanzata Malazan e noi seguiremo questo scenario estremamente violento, crudo e sanguinoso. Ovviamente ci sono tantissimi personaggi che girano intorno a questa storia e che noi cominceremo a conoscere piano piano. Il cast di personaggi che Erickson mette in moto già dal primo libro è davvero molto molto corposo. Inizialmente si fa quasi difficoltà a seguire tutti questi personaggi, soprattutto Erickson ti butta nell'azione, la minaccia Malazan è già partita, quindi effettivamente c'è un rodaggio da fare. Ma piano piano, soprattutto magari anche seguendo soprattutto il Drammatis Persone, che è fondamentale per capire appunto meglio tutta la questione, tutti i personaggi, ecco piano piano comincerai ad avere una sorta di familiarità con questa storia, con i personaggi soprattutto, che io ho sentito alcuni soprattutto molto molto vivi, molto peculiari, sono distintivi, si riconoscono, è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Questo primo libro è sicuramente molto complesso, è una lettura che non mi sento assolutamente di consigliare a tutti quanti, perché non è una lettura semplice, è una lettura che effettivamente richiede una concentrazione necessaria se si vuole capire di cosa stiamo parlando. Non è uno di quei fantasy in cui tu lettore puoi semplicemente leggere senza essere perfettamente attento a tutti gli avvenimenti, a tutte le parole, a tutti i personaggi, è qualcosa che richiede davvero una presenza di spirito e di mente davvero importante, per cui se cercate una lettura che semplicemente vi intrattenga, Malazan assolutamente non fa per voi. Poi ovviamente il fatto che ci sono tanti personaggi che prende un lasso di tempo considerevole, che ci sono continui sbalzi di punti di vista di personaggi, ecco anche questo ovviamente richiede una certa concentrazione. Questo primo volume per quanto mi riguarda è sicuramente molto più difficile da seguire rispetto che la dimora fantasma. Nella dimora fantasma Erickson mette in campo tanti altri personaggi, quindi ti ritroverai a leggere di situazioni completamente diverse da questo primo libro, alcuni personaggi che incontrerai qui li ritroverai anche qui, ma insomma ti apre altre questioni. Ma narrativamente parlando l'ho trovato molto più maturo, molto più coeso, si vede che effettivamente con questo secondo libro Erickson ha fatto un passo in avanti, è per questo che ho deciso di leggere questi due libri, i primi due libri della saga, uno dietro l'altro, per capire effettivamente, per fare un pensiero più completo di quello che è l'universo Malazan. Detto questo io ho particolarmente apprezzato questi due libri, mi sono piaciuti da morire, nonostante la complessità, nonostante io non abbia magari compreso fino in fondo tutto quanto e sono sicuro che necessiti di ulteriori letture se si vuole effettivamente conoscere alla perfezione tutto quanto, ecco nonostante questo è una lettura che secondo me riesce a dare tante 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 soddisfazioni. Ci sono continui colpi di scena, è un universo poi estremamente oscuro, molto viene dal green dark, quindi anche situazioni di violenza, di battaglie, è tutto molto viscerale, molto visivo, è davvero molto molto bello, un universo sicuramente coinvolgente che non vedo l'ora di continuare a scoprire. Andando avanti abbiamo la lettura di The Bronzed Beast di Roshan Icioski, ovvero il terzo e ultimo libro della trilogia Young Adult iniziata con The Gilded Wolves che tra l'altro verrà pubblicata anche in Italia, se non sbaglio verso dicembre alla fine dell'anno per Oscar Bolt. The Gilded Wolves è una trilogia che deve moltissimo a quello che è Six of Crows di Libardugo, diciamo che il concetto dietro è quello, un gruppo di questi scapestrati che devono portare a termine una missione pericolosissima e solo loro possono essere in grado di portarla a termine. Il tutto viene ambientato in questa Francia, durante la Parigi, anzi durante l'esposizione universale, e tutto gira intorno al mistero, a degli indovinelli che i nostri personaggi devono decifrare per progredire con la loro missione. I primi due libri di questa trilogia di cui comunque abbiamo già parlato erano secondo me concettualmente dei libri molto molto validi. Alla base c'è un'idea e dei personaggi che io ho apprezzato particolarmente, però dall'altra parte l'esecuzione effettiva di questa storia nei primi due libri ha avuto moltissime lacune che secondo me sono state una grandissima occasione buttata. Nel senso che le premesse di questa storia e l'idea dietro questa storia erano, per quanto mi riguarda, molto valide. Anche i personaggi stessi, questo gruppo di ragazzi che noi seguiamo, hanno secondo me delle personalità che potevano essere gestite ed essere effettivamente memorabili. Purtroppo, per quanto riguarda la caratterizzazione, il conoscere questi personaggi, la Cioschi non è riuscita fino in fondo a farteli conoscere, ad avere effettivamente una tridimensionalità. Mi sono sempre risultati molto piatti e costruiti, diciamo, a metà. La stessa storia, per quanto mi riguarda, poteva dare molto di più, nonostante, ripeto, ci siano degli elementi estremamente positivi, per cui io, nonostante tutto, tendo a consigliare la trilogia di The Gilded Wolves, nonostante abbia tantissime mancanze. Ma ora veniamo all'ultimo libro, The Bronzed Beast, che viene ambientato in Italia, a Venezia. E questo è un punto a favore, perché Venezia, secondo me, è una città che si presta moltissimo per questo tipo di storie. Dall'altra parte, però, come molto spesso accade con autori americani che scrivono dell'Italia, ci sono una serie di accozzaglie che lasciano un po' a desiderare, non tanto nella caratterizzazione, nella rappresentazione, scusate, dell'Italia, ma soprattutto alcune frasi, alcune parole italiane completamente sbagliate, questo italiota, come si dice, che gli americani utilizzano, che io, sinceramente, non comprendo come sia possibile che un libro venga stampato e pubblicato con degli errori del genere, quando è semplicissimo scrivere in italiano corretto, anche se non sei italiano. Ma a parte questo, che è un commento su cui possiamo anche soprassedere, questo volume finale, devo dire che mi ha lasciato soddisfatto in parte. Nel senso che la storia arriva, secondo me, a una sua conclusione naturale, che, devo dire, mi ha in qualche modo soddisfatto. Dall'altra, però, ci sono ancora tutti quei pezzi della storia che, soprattutto, appunto, come vi dicevo, rimangono ancorati alla caratterizzazione e alla profondità dei personaggi che, devo ammettere, continuano a disturbarmi particolarmente. Anche in questo volume finale, i personaggi mi sembrano molto lasciati andare. Non credo ci sia effettivamente un'analisi approfondita di questi personaggi, non che me lo aspettassi arrivato al terzo volume, però, effettivamente, avrei voluto vedere qualcosa di più. È una conclusione che, ammetto in qualche modo, può essere soddisfacente, ma, dall'altra parte, è una trilogia che, nel suo corso, mi è sembrata vuota in tantissime parti. Ed è un peccato, perché, ripeto, effettivamente aveva tutte le carte in regola per essere una storia estremamente valida, una storia con tutti i crismi, perché, effettivamente, ha dalla sua una bellissima ambientazione, ha dalla sua anche il fatto di dover risolvere questi indovinelli, cosa che, effettivamente, per quanto mi riguarda, mette un certo pepe alla storia. E, magari, ci sono anche dei colpi di scena che rendono la storia anche molto inaspettata e interessante. Però, ripeto, a conti fatti, non mi sento completamente soddisfatto da questa trilogia. Ma, ripeto, è sicuramente una storia che, in qualche modo, mi ha divertito molto. E, se devo ripensare a questi personaggi, al loro percorso, li ricordo con un certo affetto, nonostante tutto. Quindi, io devo ammettere che, comunque, la consiglio, nonostante i tanti difetti che, purtroppo, ha. Passando al prossimo titolo, abbiamo uno di quei romanzi che, nella book community, ha un fandom davvero agguerritissimo e affezionatissimo. E sto parlando, ovviamente, di Aristotele e Dante Scoprono i segreti dell'universo. Si tratta, appunto, di un romanzo di formazione, young adult, con tematica LGBT+, che, appunto, nella community è davvero molto, molto apprezzato e cacchierato e che è ritornato in Italia con questa nuova edizione proposta da Oscar Bolt. Aristotele e Dante è uno di quei libri che, devo ammettere, io non ho mai avuto questo fascino e questa esigenza estrema nel leggerlo. Nonostante questo, ho voluto leggere questo volume proprio per capire il motivo dietro a questo grande apprezzamento e a questo grande successo. E ammetto che, dopo averlo concluso, posso capire il fascino che questa storia, la storia di Aristotele e Dante, ha su molti lettori. Aristotele e Dante sono due adolescenti. Sono entrambi figli di famiglie emigrate dal Messico, ma i due sono l'opposto, sono completamente diversi, il giorno e la notte. Forse è per questo che si ritroveranno e cominciano a creare questo profondissimo legame che li vedrà terribilmente vicini e uniti. Aristotele e Dante diventeranno l'uno per l'altro un ancora di salvezza. Aristotele è infatti un ragazzo molto solitario che si lascia condizionare da questo senso di sofferenza continuo che scaturisce molto spesso in una rabbia feroce. Dall'altra parte invece c'è Dante che letteralmente rappresenta il sole. È un ragazzo estremamente dinamico, positivo, sempre allegro, sempre felice e quest'unione tra questi due ragazzi sarà per loro davvero qualcosa di fondamentale. Essendo anche due adolescenti un periodo estremamente delicato, ecco, il conoscersi sarà per loro davvero alla base della loro esperienza. Ora, come vi dicevo, sono riuscito a capire perfettamente il motivo del successo dietro Aristotele e Dante perché è una storia che sicuramente da una parte a questi due personaggi per cui si prova un affetto quasi immediato. Nel senso che entrambi hanno esperienze di vita e personalità così tanto diverse che molti lettori potrebbero rivedersi nell'uno o nell'altro. E insieme effettivamente funzionano particolarmente anche perché le tematiche che vengono trattate e che non necessariamente riguardano appunto la sessualità dei due ragazzi vengono trattate dall'autore con una certa cortezza. C'è un senso di profonda onestà e realtà nel raccontare la vita di questi due ragazzi e una cosa che io ho particolarmente apprezzato è il personaggio di Ari. Ari è un personaggio secondo me molto difficile nel senso che molto spesso durante la narrazione si può provare una sorta di repulsione nei suoi confronti perché è sempre arrabbiato sempre frustrato è estremamente negativo e devo ammettere che io mi sono ritrovato moltissimo nell'Aristotele adolescente mi sono ritrovato estremamente a mio agio nel leggere di questo personaggio che prova questa rabbia folgorante e tutto questo tutto quello che rappresenta il personaggio di Ari è secondo me estremamente veritiero molto naturale ed è una cosa che effettivamente mi è piaciuta molto la storia è coinvolgente è sicuramente un libro che si lascia leggere molto facilmente ti mette la curiosità di capire come le strade di questi due ragazzi andranno avanti e dove tutto andrà a finire dall'altra parte secondo me ci sono anche un modo di trattare il tema della sessualità dell'omosessualità in maniera forse eccessivamente antiquata forse in alcuni punti anche piuttosto di da scalica mi verrebbe da dire non lo so ci sono alcuni cliché del genere che ammetto non ho apprezzato particolarmente ripeto è una lettura estremamente valida mi ritrovo completamente d'accordo in questo ammetto allo stesso tempo che ad oggi non è un libro che io ho sentito profondamente vicino nonostante come vi dicevo mi sono magari sentito molto vicino al personaggio di Ari e tutto il resto è comunque un libro che si sente scritto per un pubblico che non mi appartiene è un target estremamente diverso ovviamente è un target molto più piccolo rispetto alla mia età e quindi oggettivamente è forse qualcosa che avrei apprezzato molto di più l'avessi letto tanto tanto tempo fa ad oggi lo reputo effettivamente una buonissima lettura soprattutto per come magari alcune tematiche vengono trattate ma purtroppo non mi è entrato nel cuore ecco bene ragazzi questa è la prima parte del video non volevo renderlo eccessivamente lungo quindi per la seconda parte ci vediamo nei prossimi giorni io sono molto curioso di sapere se anche voi avete letto alcuni di questi libri che cosa ne avete pensato e soprattutto qual è la lettura con cui avete iniziato questo 2022 detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.